Questa ragazza viene chiamata Fake Barbie per via del suo nome su una certa piattaforma che penso conosciate tutti Peccato però che quello che si nascondeva dietro le telecamere era decisamente pericoloso E nessuno se lo sarebbe mai immaginato Amici miei buonasera sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui E oggi ragazzi voglio raccontarvi la storia di Abby Una storia decisamente particolare di cui secondo me non si è parlato abbastanza Quindi eccomi qui a parlarne io Abigail White, chiamata da tutti Abby, quindi la chiameremo anche noi così Nasce nel 1998, alla mia età Purtroppo ho cercato davvero ovunque la sua data esatta di nascita ma non l'ho proprio trovata da nessuna parte Sappiamo che al momento dei fatti ha 24 anni Quindi è accaduto tutto quanto due anni fa, molto recentemente Abby comunque cresce nella città di Bristol, nel Regno Unito Che non penso nemmeno di dovervi presentare perché si tratta di una città molto conosciuta che conta più di 400.000 abitanti Non si sa molto neanche sui genitori della ragazza In nessun articolo che ho trovato online e riportato il loro nome o la loro data di nascita Quello che sappiamo è che si separano quando Abby è ancora molto piccola E come vedrete le dinamiche familiari avranno un'impronta molto rilevante nel suo comportamento futuro Dopo il divorzio infatti la piccola Abby va a vivere da sola con sua madre Ma quest'ultima si risposa dopo poco tempo e ha un altro figlio con il suo nuovo fidanzato Il patrigno di Abby però purtroppo si rivela essere un uomo violento E lei inizia a subire appunto delle violenze fisiche e sessuali da parte sua quando è ancora una bambina Quante volte abbiamo sentito questa cosa, mio Dio Cioè sembrano cose che non accadono mai, che pensi che siano troppo brutte per accadere davvero E invece accadono di continuo ogni giorno, ovunque Cioè questa cosa è davvero tristissima e fa anche abbastanza incazzare Comunque fortunatamente Abby verrà poi allontanata dal patrigno e anche da sua madre Infatti in un punto non ben preciso della sua infanzia viene data in affidamento Per questo purtroppo entra a far parte anche però di quel terribile sistema di assistenti sociali e famiglie affidatarie Abby passa quindi la sua infanzia e la sua adolescenza rimbalzando da una famiglia all'altra E questo non farà altro che alimentare sempre di più la sua paura dell'abbandono e accrescere la sua rabbia Abby infatti fin da subito si rivela essere una bambina molto irascibile Tant'è che a scuola incontra diversi problemi per via dei suoi attacchi di rabbia incontrollabili Viene poi addirittura espulsa e mandata in una scuola per ragazzi problematici Che sarebbero degli istituti o a volte anche solo delle classi Dedicate completamente ai ragazzi con problemi comportamentali di qualsiasi tipo Per molti anni Abby quindi rimbalza appunto da una famiglia affidataria all'altra Fino a quando non viene affidata definitivamente a suo nonno una volta entrata in età adolescenziale Questo definitivamente però in realtà è tutto tranne che definitivo perché Abby non rimarrà molto con lui Viene infatti data di nuovo in affidamento poco dopo sempre a causa dei suoi problemi comportamentali Che molto probabilmente per il nonno erano diventati ingestibili Questa volta Abby viene affidata al suo padre biologico Ma a quanto pare quest'uomo in realtà aveva sempre avuto seri problemi con l'alcol Problemi che erano anche già stati in passato la causa del divorzio con la mamma di Abby Quindi la decisione di andare a vivere con lui non penso sia stata proprio la cosa migliore Per questa ragazza già molto problematica di suo All'età di soli 13 anni infatti Abby purtroppo comincia a bere Non voglio dire che era prevedibile ma abbiamo affrontato abbastanza casi qui sul mio canale In cui queste situazioni si ripetono da copione Ma ogni volta sembra che chiunque ignori deliberatamente i campanelli d'allarme Cioè questa ragazza già da bambina aveva ampiamente dimostrato di essere molto incazzosa Arrabbiata col mondo I suoi attacchi di re erano incontrollabili Era stata espusa dalla scuola per questo Quindi era evidente che si dovesse già prendere in mano la situazione in maniera seria E non affidarla al padre alcolizzato Ok? E in generale non farla andare da famiglia a famiglia Comunque questo padre biologico di Abby non era mai stato presente durante la sua infanzia Quindi secondo me questa non è stata proprio una scelta tanto pensata Non mi sorprende affatto che Abby fosse così instabile sotto ogni aspetto insomma Oltre a sviluppare infatti in poco tempo un certo interesse per l'alcol Abby all'età di soli 15 anni comincia anche a fare uso di cocaina Che sappiamo non è assolutamente la sostanza migliore per qualcuno che già ha attacchi di rabbia incontrollabili O con una salute mentale precaria Ricordate Wade Wilson? Ecco Da alcune fonti ho letto che Abby fosse seguita da uno psicologo già dall'infanzia Ma non sembrava prendere la terapia sul serio e comunque di questo si parla davvero poco Quindi non è neanche sicuro al 100% che abbia effettivamente seguito questo percorso in maniera adeguata Mi dispiace molto quando mi imbatto in storie del genere Perché è uno di quei casi che ha avuto abbastanza rilevanza mediatica comunque almeno in Inghilterra Quindi si è parlato del caso in sé Ma per quanto riguarda le persone coinvolte nella vicenda ho trovato davvero pochissime informazioni Quindi non c'è proprio un contesto così chiaro dietro che ci fa capire Quindi da qui in poi entreremo nel vivo della storia Perché queste erano proprio tutte le informazioni tutte tutte che abbiamo su Abby White Spero comunque di avervi dato un'idea riguardo il passato della ragazza Perché fidatevi è importante per capire quello che succederà da qui in poi All'età di 15 anni Abby ha la sua prima relazione con un altro ragazzo della sua stessa età Anche qui sappiamo davvero poco sul loro rapporto Non è stato evidenziato nulla di particolare Nemmeno il suo nome figuratevi Ho ipotizzato comunque che fosse la tipica relazione di due adolescenti Probabilmente è stata anche la prima relazione per entrambi Quindi non mi soffermerò molto su questa parte La successiva relazione di Abby però sarà un po' più discutibile È già da questa relazione che si evincono i primi segnali della ragazza Riguardo a quello che sarà il suo rapporto morboso con gli uomini A 16 anni infatti Abby comincia a frequentare un ragazzo di 29 anni Quindi 13 anni più grande di lei Non è colpa sua ma è colpa di lui Questa cosa qui Cioè oddio è verissimo che l'amore non ha età Chiarità anagrafica non risponde sempre a quella mentale Ne so qualcosa Però qui parliamo di una ragazza ancora minorenne E con non poche difficoltà a relazionarsi Senza contare la sua grandissima paura dell'abbandono Cioè non è come avere 20 anni magari o qualcosina di più Ed essere quindi più consapevoli di quello che è una relazione con un partner più grande Ovviamente non sono uno psicologo e non voglio assolutamente mettere becco su particolari come questo Però mentre scrivevo questo caso Ho subito pensato che Abby in realtà cercasse una figura più grande di lei Proprio perché non aveva mai avuto davvero nessuna figura di riferimento stabile durante l'infanzia Ma anche qui fatemi sapere che cosa pensate voi Questa dinamica è molto particolare Una dinamica che tra l'altro incontriamo spesso in questi video In quello stesso periodo comunque quando Abby ha ancora 16 anni Viene allontanata da suo padre biologico Non essendo lui in grado ovviamente di prendersi cura di sua figlia Anche a causa della sua dipendenza che non sembrava in nessun modo migliorare Abby viene quindi rimandata in un centro per minori E finisce di nuovo all'interno del sistema di affidamento Dai 16 ai 18 anni Abby verrà affidata ad altre due famiglie Il che non farà altro che destabilizzarla ancora di più E peggiorare la sua paura dell'abbandono A 18 anni poi finalmente Abby in un modo o nell'altro Che non è ben chiaro Va a vivere da sola Nonostante ora sia maggiorenne e possa trovare una sorta di stabilità Non dovendo più rimbalzare da una famiglia all'altra Penso che nella sua testa ci fosse solo un gran casino Cioè immaginate mettetevi nei suoi panni Possiamo affermare con assoluta certezza che la sua infanzia e la sua adolescenza Siano state un agglomerato di abbandoni, delusioni, violenze, alcol, droghe E ovviamente tutta la rabbia accumulata negli anni Da questo momento in poi sarebbe sfociata in comportamenti piuttosto distruttivi Da quando Abby si trasferisce da sola Non ho più letto notizie sul suo fidanzato più grande Di cui tra l'altro non conosciamo nemmeno il nome Quindi non vi ho dato informazioni su di lui per questo E deduco semplicemente che la loro rottura fosse avvenuta quando Abby era ancora minorenne Comunque un po' di tempo prima Da questo momento in poi però Abby inizia una relazione con un ragazzo In realtà più piccolo di lei di due anni Il suo nome è Bradley Lewis Bradley sarà molto importante da qui in poi Perché ci concentreremo sulle dinamiche della relazione tra i due Bradley Lewis ha 22 anni al momento dello svolgimento di questo caso Ma quando conosce Abby è ancora minorenne e ne ha solo 16 Mentre lei 18 La loro relazione in realtà all'inizio sembra esplodere I due sembrano super innamorati Fanno qualsiasi cosa insieme Bradley ha poi tra l'altro un buon lavoro Lavora come piastrellista per una ditta E porta a casa già un buon stipendio a quell'età Assurdo Abby invece rimbalza da un lavoro all'altro perché Per via dei suoi sbalzi d'umore e del suo carattere così altalenante Viene licenziata praticamente dopo pochi mesi ogni volta Nonostante i due non fossero in una posizione di stabilità economica Decidono comunque di allargare presto la famiglia E nel giro di 4 anni Hanno ben tre figli Ovviamente con tre figli a carico la situazione in casa diventa molto precaria Le spese aumentano di smisura La coppia ha bisogno di un'entrata extra E così Abby nel 2020 con l'arrivo della pandemia E con l'ascesa dei lavori online Apre il suo canale OnlyFans Penso che tutti oggi sappiamo di che piattaforma si tratti Ma lo spiegherò comunque brevemente OnlyFans è una piattaforma che offre un servizio di intrattenimento Quasi sempre per adulti Praticamente i creator su questo sito web possono guadagnare denaro dagli utenti I fan, OnlyFans Che si iscrivono ai loro contenuti È diventato molto popolare nel settore dell'intrattenimento per adulti appunto Ma la piattaforma può ospitare in realtà anche contenuti di qualsiasi genere Come per esempio il fitness, l'istruzione, qualsiasi cosa Però è famosa per quello Abby sul suo canale quindi si concentra proprio sui contenuti per adulti Lei pensa infatti che possa essere la soluzione migliore vista la sua situazione Così avrebbe potuto lavorare da casa, badare ai bambini E allo stesso tempo avere una buona entrata fissa ogni mese Fissa non proprio però una buona entrata ogni mese Abby quindi apre il suo canale e si dà il nickname di Fake Barbie Ovvero il nome con la quale viene ricordata E per lei le cose funzionano molto bene sin da subito Abby diventa in fretta molto popolare su quella piattaforma E solo nel corso del primo anno riesce a guadagnare ben 50.000 sterline Pari a quasi 60.000 euro La ragazza quindi comincia a vivere una vita da sogno Cioè una vita che lei non aveva mai vissuto Comincia a comprare abiti e borse firmate Non fa mancare nulla ai suoi figli Tuttavia questo successo è destinato a finire molto in fretta Perché ad un anno dall'apertura del canale Le visualizzazioni, gli iscritti insomma Cominciano a scendere vertiginosamente E con il passare del tempo La sua rilevanza in questo settore sempre più competitivo Inizia a diminuire Nel secondo anno Abby infatti guadagnerà solo 12.000 sterline Che si è messa a confronto con le 50.000 dell'anno primo ovviamente sono molto poche Abby infatti perde circa il 70% del suo pubblico E nonostante con quello stipendio di 12.000 sterline Riuscisse in qualche modo a mantenersi a pagare tutte le spese In aggiunta allo stipendio di Brad Si sente in ogni caso molto frustrata Per il fatto di non avere più il successo di prima In tutto questo minestrone non dimentichiamoci che ha ancora dei grossi problemi con l'alcol e con la droga E oltre ad avere varie dipendenze con le sostanze I suoi problemi con la rabbia peggiorano sempre di più E influenzano non poco la sua relazione con Bradley La coppia era entrata ufficialmente in un rapporto molto tossico Abby era verbalmente e fisicamente a volte aggressiva nei confronti del suo ragazzo Voglio infatti specificare che in tutte le fonti a cui mi sono appoggiato C'è scritto che nella relazione è stata lei sempre fin dall'inizio ad essere manipolatrice e tossica e violenta Abby voleva costantemente le attenzioni di Bradley Faceva i capricci se lui non le comprava dei regali Si arrabbiava senza motivo se lui non le rispondeva subito a un messaggio E gli chiedeva costantemente dove fosse, cosa facesse, eccetera Il suo comportamento e i suoi momenti di rabbia costanti e incontrollabili Hanno portato poi ad altre dinamiche tossiche nella relazione Come il fatto di tradirsi a vicenda I due infatti finiranno per tradirsi davvero ad ogni occasione Nonostante la loro non fosse affatto una relazione aperta Ovviamente nessuno dei due era contento del tradimento dell'altro Ma penso che fossero arrivati ad un punto di rottura proprio nella relazione E Bradley provasse molto risentimento nei confronti di Abby per come si stava comportando in generale Non chiedetemi dove fossero i figli in tutto questo Perché purtroppo vengono menzionati proprio poco Magari per questioni di protezione della privacy E ora vi dico la mia sensazione riguardo a tutto ciò A mio parere per Abby la cosa più importante era avere tutte le attenzioni di Bradley Quasi mettendo i suoi stessi figli in secondo piano Questo riporterebbe come sempre alla sua infanzia Alla sua paura dell'abbandono E al fatto di aver costantemente bisogno di attenzioni Ho letto anche tutte le osservazioni espresse dal giudice a seguito del processo Di cui parleremo ovviamente dopo Ma da queste dichiarazioni si capisce chiaramente Che fosse Bradley quello a occuparsi praticamente sempre dei figli Era lui quello che li portava a scuola la mattina Era lui che li riaccompagnava a casa E che li portava dalla nonna nel weekend Quando nessun altro poteva guardarli Insomma faceva quasi tutto lui Da questo punto di vista possiamo dire con certezza Che Bradley invece mettesse al primo posto i figli E che avrebbe voluto che Abby facesse lo stesso Avrebbe voluto avere una famiglia normale, unita Ma l'instabilità della ragazza rendeva davvero impossibile realizzare una situazione di equilibrio Bradley quindi ad un certo punto inizia a tradire Abby con un'altra ragazza E la cosa tra i due con l'amante diventa un po' più seria E con seria intendo che i due magari si rivedevano parecchie volte E non solo per una scappatella Questa ragazza si chiama Leah E non ho molte informazioni su di lei Perché anche sui documenti del tribunale compare soltanto il suo nome Quindi purtroppo non conosciamo nulla di più riguardo a questa ragazza Ad ogni modo se mi sto concentrando così tanto su questa Leah È perché anche lei rimane incinta di Bradley Quindi Bradley mette incinta Leah nonostante la sua disastrosa situazione con Abby Da una fonte ho letto addirittura che la ragazza è rimasta incinta Mentre Abby stava ancora aspettando il terzo bambino Ma questa cosa l'ho letta solo in una fonte quindi non posso darla per certa Quello che possiamo dare per certo invece a questo punto È che il loro rapporto non è più sano Non lo è mai stato in realtà Però i due adesso cominciano a cercare tutti i modi possibili per ferirsi a vicenda Oltre ai tradimenti e alle manipolazioni psicologiche Abby un giorno si spinge addirittura oltre E in un momento di rabbia proprio fuori di sé Praticamente lo ferisce alla gamba con un coltello da cucina La ferita sebbene non sia stata mortale Lascia a Bradley un'enorme cicatrice E questa secondo me sarebbe dovuta essere la famosa goccia che fa traboccare il vaso no? Cioè ti ha coltellato Vabbè Bradley a quel punto avrebbe dovuto prendere la situazione in mano Allontanarsi definitivamente da Abby Avrebbe dovuto magari avvertire gli assistenti sociali Fare in modo che la loro disastrosa situazione riprendesse un po' di equilibrio Cioè per il bene di tutti proprio Ma anche questa volta le cose non sarebbero cambiate E anzi avrebbero solo continuato a peggiorare Gli scatti di ira di Abby diventano sempre più ricorrenti E cominciano a non limitarsi più all'ambiente domestico Ma si espandono anche all'esterno Fuori casa Ora Abby in qualsiasi situazione Trova qualsiasi pretesto per litigare con le persone Arrabbiandosi davvero senza motivo Una sera la ragazza si trova in discoteca E finisce con litigare con un'altra ragazza Dalle fonti praticamente ho letto che Abby Ha iniziato ad insultare questa ragazza Perché secondo lei la stava guardando male Anche se a questo punto della storia Non penso proprio che fosse così Comunque alla fine Abby finirà per essere cacciata Dalla discoteca con la forza Dopo aver aggredito quella povera ragazza in bagno La ragazza denuncerà Abby per aggressione E ci sarà effettivamente un processo a suo carico Per cui dovrà scontare 12 mesi di servizi socialmente utili A questo punto però finalmente i servizi sociali si attivano E iniziano a puntare i riflettori su Abby e su Bradley Cominciano a nutrire qualche dubbio Sul benessere dei loro bambini e della famiglia in generale Da qui in poi quindi diversi assistenti sociali Si recano a casa loro per valutare la situazione E ovviamente la prima cosa che notano È proprio il rapporto morboso e tossico tra i due Gli assistenti sociali che prendono in mano la situazione di questa coppia Rimangono perplessi nel vedere quanto i due ragazzi fossero così giovani Avessero già tre bambini e si comportassero così Soprattutto avessero i bambini nonostante il loro rapporto fosse tutto fuorché sano e stabile Cioè dopo aver valutato attentamente la situazione I professionisti riferiscono a Bradley ed Abby che se avessero voluto ottenere i figli Allora non avrebbero più dovuto vivere insieme Il loro obiettivo era separare i due in modo che le dinamiche tossiche della loro relazione Non influenzassero più il benessere e la crescita dei bambini E oltre a questo sia Bradley sia Abby avrebbero dovuto essere seguiti da uno psicologo Nonostante le intenzioni dei servizi sociali fossero buone ovviamente Il risultato di questa decisione sarà semplicemente catastrofico In primo luogo è Bradley quello a lasciare la casa e a tornare a vivere con sua mamma Lasciando così Abby da sola con i tre figli E qui non riesco davvero a capire come abbiano potuto lasciare una ragazza così instabile Con una denuncia a suo carico per aggressione E con un chiaro problema con alcol e droghe da sola con tre figli È davvero assurdo come in ogni caso che affronto questa cosa si ripeta ancora e ancora È possibile che gli assistenti sociali abbiano pensato fosse insomma una buona idea Lasciarli da lei? Non lo so Quello che voglio dire è che era giusto separarli Ma conoscendo la situazione sarebbe stato meglio lasciare i bambini a lui Comunque a questo punto siamo all'inizio del 2022 Abby vive da sola con i bambini e Bradley è tornato definitivamente a casa con sua madre Il ragazzo finalmente riesce a tirare un sospiro di sollievo E ad avere un po' di pace dalle follie di Abby Ed è proprio in questo periodo che sua mamma La mamma del ragazzo Comincia a convincerlo di lasciare Abby definitivamente Dovete sapere che la madre di Bradley non aveva mai approvato davvero la relazione di suo figlio Aveva sempre pensato che Abby fosse troppo controllante, instabile, aggressiva E ovviamente dopo aver saputo che aveva addirittura pugnato suo figlio alla gamba Stava iniziando a temere seriamente per la sua incolumità Bradley piano piano quindi staccandosi sempre di più da Abby Comincia a sua volta a capire che la cosa migliore per entrambi e per i bambini Fosse lasciarsi E così decide di parlarne con la diretta interessata E lei, come sicuro avete già immaginato Non la prende per niente bene Anzi la prende proprio nel peggiore dei modi Abby praticamente comincia letteralmente a ricattarlo E a mandargli dei messaggi in cui lo minaccia di uccidersi Se per caso lui avesse rotto con lei La classica minaccia di un manipolatore narcisista questa Se ve la fanno Raga non cascateci per favore Lo so che è difficile però davvero oddio Allora se proprio tenete molto a questa persona a limite trovate il modo per farla aiutare da degli esperti Ma non mettetevi nella situazione di provare pena e tornare al loro fianco solo per questo Perché è praticamente sempre solo un ricatto per farvi rimanere sotto il loro controllo È davvero spaventosa questa cosa State attenti per favore Comunque Abby dalle minacce di uccidersi passa poi ad altri tipi di minacce Comincia infatti a dire a Bradley che se per caso si fossero lasciati Avrebbe direttamente ucciso lui Poi minaccia anche di uccidere sua madre e tutte le ragazze che si era portato a letto Insomma Abby tira fuori veramente il suo lato più pericoloso E minaccia di uccidere tutti Il povero Bradley quindi comincia ad essere sempre più spaventato Sentendosi sempre di più con le spalle al muro per questa situazione Ha proprio paura di rompere con Abby per via delle minacce Ma allo stesso tempo non ha più le energie per rimanere con lei E restare bloccato in questa relazione così violenta Bradley inizia a nutrire un vero e proprio odio nei suoi confronti E comincia a confidarsi con i suoi amici Dice loro che è terrorizzato dalla situazione Che si sente come intrappolato nel rapporto Per via ovviamente della paura che lei potesse farsi o fargli del male A questo punto il ragazzo teme sul serio per la sua incolumità Arriviamo così a marzo del 2022 Mese in cui avviene una cosa che non si aspettava nessuno Abby rimane nuovamente incinta Da quello che è emerso dal rapporto del tribunale In realtà non si è proprio certi che il bimbo fosse di Bradley Anche se Abby sembrava convintissima di questo E vabbè se fosse così Se fosse effettivamente figlio di Bradley Io mi chiedo A che scopo continuare a sfornare i figli Se nella vita non si è nemmeno in grado di prendersi cura di se stessi O della persona che sia accanto Cioè arrivato a questa parte mi stavo davvero arrabbiando Perché situazioni così non dovrebbero esistere Comunque per fortuna Poi sono andato avanti e mi sono calmato Perché per fortuna Abby si rivolge quasi subito ad una clinica per abortire Penso che abbia anche subito varie pressioni Anche da parte di Bradley Per interrompere la gravidanza Perché ovviamente Quello non era affatto un buon momento Per aggiungere un altro membro in famiglia Ok? Abby quindi si reca in una clinica Per procedere con l'aborto E nonostante tutto Bradley l'accompagna E rimane lì accanto a lei per sostenerla E lo fa nonostante non fosse nemmeno sicuro al 100% Che il bimbo fosse suo Attenzione Ad ogni modo sta con lei tutto il tempo E alla fine la riaccompagna anche a casa Per la prima volta dopo tanto tempo Quella sera i due sembrano trovare un attimo di pace E decidono di passare la notte insieme Questa pace però ovviamente è destinata a durare pochissimo Perché la mattina seguente Mentre Bradley sta ancora dormendo Abby decide di spiargli il cellulare Controllare i suoi messaggi E facendolo Scopre che lui stava messaggiando con altre ragazze Direi che se lo poteva anche aspettare Dato che letteralmente ha provato a mollarla Ma lei ha cominciato a minacciarlo Cioè nella testa di Bradley era palesemente finita la relazione Quindi non lo so Andiamo avanti va Abby una volta scoperti i messaggi Va su tutte le furie E comincia di nuovo ad accusare Bradley di tradimento Altra cosa che trova davvero senza senso Perché anche lei lo faceva Anche lei l'aveva tradito un sacco di volte Comunque quella mattina Abby si arrabbia più che mai Cioè proprio furiosa Incontrollabile Così va in cucina Prende un coltello E pugnala di nuovo Bradley Questa volta al braccio Quindi siamo già alla seconda volta in cui Abby lo ferisce con un coltello Tra l'altro questa volta la ferita è molto profonda E necessita di molti punti Quindi Bradley è costretto ad andare subito in ospedale Dove farà passare l'accaduto per un semplice incidente Qui no avrebbe dovuto dirlo che era stata lei Comunque non giudico Dopo essere tornato a casa dall'ospedale Sua madre ovviamente esprime sempre più preoccupazione per tutta questa storia E di nuovo sprona a Bradley a lasciare Abby E allontanarla anche dai bambini per sempre Perché era pericolosa Sarebbe stata la cosa più giusta da fare in effetti Nei giorni seguenti Abby manda continuamente messaggi minacciosi a Bradley Messaggi sempre più preoccupanti In cui letteralmente scrive che lo avrebbe ucciso E sarebbe anche andata in prigione per questo In un vocale lo dice letteralmente Un vocale o una sua amica Dice anche che l'avrebbe accoltellato e picchiato a sangue Se le avesse fatto ancora del male Continua dicendo che Bradley le dice la verità Solo quando lei lo aggredisce fisicamente O lo pugnala con un coltello Arriviamo così al 25 marzo 2022 Quel giorno Abby chiede a Bradley di potersi incontrare In un pub della zona per parlare E lui accetta di vedersi Perché era un luogo pubblico insomma Lui arrivato a questo punto aveva paura Temeva davvero Quindi dato che lei gli aveva proposto un luogo pubblico Lui ha accettato Abby gli dà appuntamento alle 17 E si fa trovare lì puntualissima Lui invece ritarda un po' Il che fa andare Abby su tutte le furie Arrivate le 17.30 con ancora nessuna traccia di Bradley Abby comincia a intasarlo di chiamate Mentre aspetta che arrivi la ragazza continua a bere ininterrottamente E al suo arrivo praticamente un'ora dopo Lei è visibilmente ubriaca I due hanno subito un'accesa discussione Abby è su tutte le furie per il ritardo di Bradley E intanto lo accusa anche di essere andato a letto con un'altra ragazza E questo secondo lei doveva per forza essere il motivo del suo ritardo Quel giorno comunque il pub era particolarmente affollato E i presenti notano subito che la coppia stava discutendo animatamente Hanno attirato letteralmente l'attenzione di tutto il locale Ad un certo punto Bradley si avvicina al bancone per ordinare da bere Ma Abby continua a stargli addosso e insultarlo davanti a tutti E non appena arriva la birra ordinata dal ragazzo Abby con un movimento della mano butta a terra il bicchiere Rompendolo in mille pezzi E creando ancora più casino e scompiglio in mezzo al pub E a quel punto che una coppia decide di intervenire insomma Era una coppia sulla trentina Che non conosceva affatto né lui né lei Ma arrivati a questo punto decidono di mettersi in mezzo Perché la ragazza era fuori di sé Quindi la ragazza di questa coppia chiede a Bradley se fosse tutto ok E Abby come risposta la guarda in faccia E letteralmente le dice chi cazzo sei A quel punto il fidanzato della donna si mette in mezzo E chiede a Abby di calmarsi Lei che cosa fa in tutta risposta Prende un bicchiere e mezzo vuoto dal bancone E lo lancia in faccia al ragazzo E poi gli sputa addosso Capito? Ok Abby è proprio furiosa in quel momento E incontrollabile Cioè non si poteva fare niente per calmarla Questa volta più del solito Va completamente fuori di testa In quel momento non le importa proprio di nulla E non le importa neanche delle conseguenze delle sue azioni L'uomo in risposta comunque dà una spinta ad Abby Che cade per terra in mezzo al pub E si mette subito dopo a piangere disperatamente Dicendo che l'uomo le aveva messo le mani addosso Minacciando anche di chiamare la polizia Bradley comunque ne ha abbastanza di tutto questo circo E decide di lasciare il pub e di riportare Abby a casa Quando i due arrivano a casa sono circa le 20 La ragazza non lascia nemmeno il tempo a Bradley di entrare in casa Che ricomincia ad essere verbalmente aggressiva Lo accusa di non averla difesa quando quell'uomo si era accanito su di lei E quindi lo accusa di non aver difeso il suo onore Ricordiamoci che in tutto ciò era stata Abby a fare quell'enorme scenata al pub Era stata Abby a rompere il bicchiere Ed era sempre stata lei a sputare addosso a quell'uomo che poi l'aveva semplicemente spinta Direi che... vabbè È sempre stata Abby comunque a portare problemi ovunque andasse Ed è dovuto ovviamente alla sua infanzia Alla sua crescita che comunque non è stata per niente serena Mai in nessun momento Quindi andava aiutata Da tanto tempo prima Se fosse stata aiutata sicuramente Non si sarebbe arrivati al tragico epilogo di questa storia Perché purtroppo Quella sarà l'ultima volta in cui Abby si accanirà Su Bradley La ragazza dopo l'accesa discussione con lui Si fionda in cucina Recupera un grosso coltello Probabilmente a questo punto avete un déjà vu Dato che è la terza volta che fa questa cosa Purtroppo però Questa volta Abby non colpirà Bradley Né al braccio Né alla gamba Ma al petto Senza esitare Nemmeno un secondo Affonda la lama E purtroppo colpisce direttamente il cuore del ragazzo Bradley guarda Abby con un'espressione terrorizzata Mentre si accascia a terra E perde i sensi È in quel momento che la ragazza realizza Di essere andata troppo oltre Di essere arrivata a un punto di non ritorno La ragazza si mette a piangere disperatamente Si mette le mani tra i capelli E gira per casa raccogliendo vari stracci e asciugamani Invece di chiamare subito i soccorsi Comincia a pulire tutto l'intorno A pulire la scena del crimine E mette persino a lavare la maglietta del povero Bradley Steso a terra Abby però non riesce a gestire il panico E quindi comincia a urlare Gridare aiuto E dato che si trovava in un condominio Queste urla di aiuto vengono sentite da una vicina Che sarà proprio lei infatti a chiamare un'ambulanza Quindi voglio sottolineare che Se fosse stato per Abby Per la reazione che ha avuto a tutto ciò Bradley sarebbe rimasto lì ancora per non so quanto La signora che chiama i soccorsi È una donna di nome Laura Ed è sempre stata alla vicina di casa di Abby Subito dopo aver fatto la chiamata A questa Laura Si precipita davanti a casa della ragazza E bussa alla porta agitatissima E subito dopo Abby va ad aprire Si presenta sullo stipite della porta Con indosso un vestitino rosa Totalmente pulito Limpido Senza nemmeno una goccia di sangue Questo ovviamente è stato ciò che ha dichiarato Laura Poi parlando con gli agenti Il che fa pensare che Abby Si sia addirittura cambiata Dopo averlo attaccato Laura comunque a quel punto entra in casa E la ragazza le fa vedere Bradley incosciente sul pavimento Così immediatamente la donna si mette su di lui E cerca di premere sulla ferita Nella speranza di fermare il sangue Questa donna secondo me ha avuto un coraggio allucinante Perché non poteva sapere cosa avrebbe trovato in quella casa E ha deciso comunque di non voltarsi dall'altra parte Non so quante persone l'avrebbero fatto così Quello che mi fa venire la nausea però a questo punto della storia è proprio Abby Perché mentre Laura è sopra la vittima che cerca in tutti i modi di salvarla Abby rimane seduta vicino a lui Gli tiene la mano e gli chiede disperatamente di non lasciarla E di essere forte per lei Vabbè Quando Laura chiede a Abby cosa fosse successo Lei ha la faccia tosta di dirle che Brad si era pugnalato da solo Lora ovviamente non ci crede troppo Intanto i servizi di emergenza finalmente arrivano E Bradley viene portato immediatamente all'ospedale insieme ad Abby Il ragazzo finisce subito in sala operatoria E i medici fanno davvero di tutto per salvargli la vita Ma la ferita era semplicemente troppo grave Abby gli aveva trafitto il cuore E non c'era più niente da fare Bradley Lewis viene dichiarato morto alle 2 del mattino Abby White viene portata alla centrale di polizia per essere interrogata E la sua versione dei fatti comincia a cambiare in continuazione Un casino fa La polizia ha fin da subito il sospetto che sia stata lei ad aver pugnato Bradley E il fatto che Abby cambi versione in ogni momento non la mette proprio in buona luce La ragazza infatti prima dice che è stato lui a recuperare il coltello dalla cucina e a pugnarsi da solo Ma poi cambia idea E dice che invece era stata lei a prendere il coltello dalla cucina Ma poi lui glielo ha strappato dalla mano e si è pugnato da solo Sempre durante la litigata Infine dice che lui ha preso la sua mano La mano di Abby che intanto stava tenendo il coltello E si è pugnalato da solo usando la mano di lei Le sue versioni in ogni caso non tornano, non reggono E dopo aver controllato i telefoni della coppia E aver visto i messaggi di minaccia che lei gli mandava in continuazione E dopo anche varie testimonianze di amici e familiari Abby viene accusata di omicidio e portata al processo Il processo è inizio sette mesi dopo il crimine nell'ottobre del 2022 In aula Abby prova di nuovo a cambiare versione Questa volta afferma di essere stata lei a pugnalo Ma aggiunge che non era affatto sua intenzione ferirlo mortalmente Quindi insomma dice di essere colpevole ma di omicidio colposo L'accusa però sarà molto molto agguerrita per questa vicenda E porterà in aula qualsiasi prova per dimostrare alla giuria che Abby White Era una persona mentalmente instabile e pericolosa per se stessa e per gli altri In aula vengono mostrati tutti i messaggi di minaccia I vocali con gli insulti I vocali con gli amici di Abby Il referto dell'ospedale di quando Bradley era stato pugnato da Abby al braccio Nonché anche tutti gli episodi di violenza fisica e verbale A cui il ragazzo era sottoposto ormai da anni La giuria alla fine concorda che l'omicidio era intenzionale al 100% E che non si trattava quindi di un omicidio colposo Abby White viene per questo giudicata colpevole E condannata all'ergastolo con un minimo di 18 anni Prima di poter richiedere la libertà condizionale Abby sta attualmente scontando la sua pena Ed è riuscita a far parlare di sé anche dal carcere Infatti dopo soli 5 mesi che era dentro Ha avuto la faccia tosta di lamentarsi Ha detto che il sistema carcerario dovrebbe permettere alle detenute Di avere dei rapporti sessuali con degli uomini Insomma ho l'impressione che Abby passerà un bel po' di tempo in prigione E sinceramente non penso proprio che questo la aiuterà Con i suoi problemi di rabbia incontrollabile Penso invece che se un giorno dovesse uscire Probabilmente sarà ancora più incazzata di prima Spero quindi che rimanga dentro il più a lungo possibile E che infine venga aiutata Perché questa ragazza deve essere aiutata Doveva già essere aiutata da bambina Ma l'hanno semplicemente fatta rimbalzare da una famiglia all'altra Vabbè Purtroppo comunque non so darvi informazioni sui figli di Abby e Bradley Perché dagli ultimi documenti del tribunale non emerge proprio nulla Io penso che siano stati comunque dati in adozione E spero davvero che non li abbiano separati Dopo tutto quello che hanno passato si meritano un bel po' di serenità Il quarto figlio di Bradley invece Quello avuto con Leah Purtroppo crescerà senza un padre anche lui E quindi anche lui dovrà vivere questo trauma E queste sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi Fatemi ovviamente sapere quello che pensate Ancora una volta si tratta di una tragedia Che poteva essere evitata in migliaia di modi Quindi sicuramente lascia con l'amaro in bocca Se in qualche modo anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me Vi invito a mettere un mi piace a questo video Oppure un non mi piace se invece non vi è piaciuto Che vedevo di E adesso parlo con te Sì proprio con te Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare Qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà E ricorda Youtube non si sbaglia mai E qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo Vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei E niente vi ringrazio per essere stati con me E vi do appuntamento al prossimo venerdì Con un altro file Ciao Ciao